Io tiro giù, non c'è neanche grande problema. Io mi tiro questa, molli le sconte, quanto dico io, però questa la tiro. Prima mi recupero un po', poi quando ce l'ho ti dico molla braccio, mi molli il braccio, mi recupero il braccio e poi la drizza. La drizza è l'ultima. Aspetta, aspetta. La drizza è l'ultima. La drizza è l'ultima. Quando ce l'ho in mano, ho tutta la base. Ma ah, questo qui lo molliamo? Quello te lo chiamo io. Capito? Te lo chiamo e tu lo molli in automatico. Domenico che è una mazza, ecco qua. Allora, io mi prendo, lo prendo da qua. Vai un po' in bocca, no? Adesso mi molli il braccio, che sarebbe questa altra parte. Quello che c'hai, questo qua. Lo molli. E io già mi recupero, mi recupero questa parte. Adesso, contemporaneamente, iniziamo a mollare la drizza. Vedi, ce l'ho in mano. Molla la drizza. Dammi a me il braccio, lascialo, lascialo, lascialo. La sigaretta non è una manovra da fare. E sale in tabù. Scusiamo. Adesso la drizza, poi diventiamo. Questo, se stiamo in regatta, lo metti dentro lo sacco, e lo tieni qua dentro, e rimane chiuso così. Non è chiuso, pronto a riuscire. Ah, ecco. Se devi riuscire, guarda fuori. Questa è la lascia mollata. Non se ne sbatte, è una lascia mollata. Noi dobbiamo riprendere, non dire, un foco. Questo perché si ingarbugliano. Poi dopo, e... Apri il fioco. Adesso gli apriamo. Vediamo il fioco che è lì. Questa. Andiamo a andare. Il vento. Ce l'abbiamo in là. Questa. Adesso facciamo il cuore. Sicuramente. Si molla un po'. No, adesso la randa si tesa perché siamo di bolina. Allora, quando facciamo la mollata, adesso vuol dire che c'è il tangone, non mezzo il coglione ancora. Non possiamo guidare. Quello lì la butta giù. Allora, per buttarlo giù. Vai, lo prendi. Ah, ma tanto da qui lo smogli? Dal fondo? Allora, adesso ti devo mollare l'altro al basso, qui, no? E poi però lo stacco da qui. Lo stacchi, da lì lo butti a terra. E lo lascia da terra, dai. Lo devi mettere, poi tanto se c'hai in mano, non lo devi agganciare. L'altro e rimane un po' da qui. Quindi molla l'altro al basso. Mi dovrei mettere dall'altro lato. Esatto. Allora, non mi puoi chiamare quando sto agganciando il tangone, scusami. se stai agganciando il tangone, tu non mi puoi chiamare. Il tangone, mamma mia, ma tu in quel cappello non ci sei mai andato. Stiamo andando un attimino di bollina, adesso vengo. Anche la terminologia appropriata vedo, eh. Nei tratti, allora. Dovevi gli dire che stavi lavorando, dai. Hai sbagliato tutto. No, dovrei anche essere in giro, però... Eventualmente, ma tu perché devi andare?